Che consigli mi sento di dare oggi? C'ho riflettuto un attimo e ho detto aspetta un secondo però, quando le aziende cercano aiuto a volte non sanno bene cosa devono cercare, fanno un po' di confusione, cercano magari qualcuno che gli aiuti con internet, qualcuno che gli aiuti con il sito, boh cercano qualcuno insomma e difficilmente riescono soprattutto se non sono esperti a capire bene che cosa serve, vogliono e allora ho pensato di fare, di dare due o tre idee, di spiegare un po' quali possono essere le figure principali da questo punto di vista. Allora io direi che c'è il social strategy, l'uomo della strategia social che è sostanzialmente uno che dice no aspetta un secondo è meglio che tu fai questo, è meglio che tu fai quest'altro, no questo non farlo, questo fallo così, questo devi farlo cos'ha, paghiamo dei soldi per fare dell'advertising, no non lo facciamo, cioè è chi guida la strategia social che non ha a che fare con chi invece si occupa per esempio del sito, ok faccio un esempio, chi sviluppa il sito cioè occupa di digitale, non è sempre uguale, cioè non è che arriva uno è bravo e sa fare, un mio amico è un genio, voglio dire non deve essere un genio, non puoi saper fare tutto, puoi conoscere tante cose ma poi a livello professionale, ad esempio io non mi occupo di quegli aspetti, li conosco ma non lo faccio di lavoro, ok, perché devi seguire, è una conoscenza che devi continuare a sviluppare e a tenere viva, no? Poi c'è il social media manager, il social media manager invece è quello che esegue quella strategia, ok? Cioè è quello che si mette lì e fa in modo che ci siano i post, che i post vengano messi online, eccetera, ed è un mestiere molto preciso, ti dici ma io devo aver tutti, beh dipende, puoi come dire averne uno che fa un po' tutto, però devi sapere che sta facendo un po' tutto, che è diverso da pensare di come dire io prendo un bravo costruttore, un bravo operaio, ecco che mi costruisce la casa, sì, si arrangerà con l'impianto elettrico, si arrangerà con l'impianto idraulico, ma magari, ecco, magari anche con la struttura della casa, però insomma potrebbe anche cadere, invece prendo un architetto che fa solo quello, o uno esperto, un strutturista, un ingegnere Dile, ecco per esempio sono sicuro che, ma magari un ingegnere Dile fa fatica a fare altre cose, ok? Poi c'è il community manager, il community manager è un signore che si occupa proprio di gestire la community, un'ultima cosa, ah e non confondetelo con quello che vi fa il sito, perché magari il community manager nel gestire la community, ma non ha più pallidele come si faccia un sito, eh, sono due cose separate, eh, attenzione, bisogna prepararci, un'ultima cosa veloce,